Perfetto Eccoci da dove C'eravamo salutati E siamo pronti per riprendere Il nostro cammino Questa aspetta Facciamo una cosa Io quasi Quasi Sarei propenso A Deve esserci qualche segno Delle vocazioni Visto che comunque Ho notato Che rimane attivo Dai mostrami la strada Ma mi fa andare più avanti Ma che senso ha Niente mi ha salutato Va bene Quindi Ok Non è come in Dark Souls 3 Che non ti permette di Una volta che uccidi il boss della zona Non puoi più Evocare Gli altri alleati Li puoi evocare sempre Però Non ti permette di andare Oltre Vediamo se appare la tizia Andare c'è qualche notizia Andare c'è qualche notizia No E se altissima E se altissima E se altissima E se altissima E' il tuo spirito E' solo E' un tipo E' solamente E' il tipo E' il tipo E' il tipo E' il tipo E' la tua successione Successo. Usa le guardie. Sì, il tuo gioco. Ma non mi apre niente. Più avanti oggetto. Vabbè. Intanto ciao Gokusai e grazie per i follower. Scusami, ero impegnato a capire quale fosse il passaggio segreto che mi sta vendicando. C'è della roba lì sotto. Ce n'è un passaggio anche sotto, però. Siccome non mi sento molto Spider-Man in questo momento, preferisco evitare i salti possibili. Sento battere un fabbro. Prima scendere piano piano di qua. Ma che? Ok. Ma che è che a spita era? Un'aquila con delle spade al posto delle zampe Vieni, te la faccio vedere Prima che scompare Vedi? Sì, è abbastanza inquietante Oh cavolo, quante sono? Alla fine non so se mi è convenuto così tanto Entrare da questo passaggio segreto Andiamo di qua Io comunque Appena sarò uppato A bestia Tornerò In questa zona Che cacchio è che ha suonato la tromba? Grazie E basta Non è molto ottimista sta cosa Ma vai a quel paese Non mi aspettavo un messaggio Ma va 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 Ma 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 va ho spasciato tutte cose spascio tutte cose ma per caso sono crepato malissimo ma giusto per curiosità caduto giù lo domanda lì indietro vedete facciamo una cosa ma non devo fare questo l'abitudine devo fare una cosa visto che siamo qua ma 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 non non cosa quantifico guarda non non sia ma non succedere non lo so forza non mi è possibile andare all'altra porta ok ho la zampa di gallina abito da fuori legge quindi lui è un truffatore proviamo oh cacchio bella bella oh cacchio ispire bella oh cacchio ispire oh cacchio basta che cosa hai alle spalle muoviti oh cacchio oh cacchio ispire oh cacchio ispire oh cacchio ispire tu guardo tu guardo oh cacchio ispire oh cacchio ispire oh cacchio ispire e se ce la giochiamo oh cacchio ispire no cacchio ispire Grazie a tutti. Facciamo un po' di confusione, dai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ce l'avevo quasi fatta. No, non ci provo neanche. Oh, hello. Ti ringrazio. No, ma che siamo crepati male. Ci proviamo? Ci dovevo provare. Se provassi a prendere meglio la rincorsa... Ah, ma forse è soltanto un foro così, non è un passaggio, quindi... Infatti non sembra spuntare da nessuna parte. No, non ci provo. No, non ci provo. No, non ci provo. No, non ci provo. Aspetta. No, non si può salire di là. No, non ci provo. 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 E allora ditelo Perfetto Riprendiamo da qua Rapid e veloci ci sono sposati a questo punto di grazia Che è l'ultimo che abbiamo sbloccato Ovviamente mi sono potenziato un po' Nel frattempo Per avere la vita un po' più rapida Eccolo Corazzo da esola Non è il momento di mettersi a cambiare ogni due secondi di equipaggiamento Questi che l'altra volta L'homo già trovati Andiamo di qua Veloci veloci Gioco Il messaggio ci consiglia Voglio utilizzare La modalità stealth E' andato Ok Qua visto che mi spawno da lontana Adesso che l'abbiamo Largo Qua visto che mi spawno da lontana Non ne hai? Vabbè Ok Non era provvisto di Di zebedoi Per essere feriti agli zebedoi Guarda No Tagliamo Ok Ok Guarda scusami Se non può Difficilmente Sto è stato Eh sì Ok Ma questa porta Cosa è chiave Ok Faccio una getta A sinistra Oh cavolo Ma vai a quel paese Va Ma vai a quel paese Va Di nuovo Di nuovo Al dirupo Con un calcio Ah ma tanto mi piace Ok Ok Andiamo oltre Ah Ai 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 Un calcio 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 E' sentate questa è simpatia ma tu guarda questi che vengono così non saprei avviso non è questo quello che mi aveva sparato? perfetto no? non è lui? mi sembra di si 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 perfetto era lui ok siamo ubriachi che camminano tutti storti facciamo anche questa statua ma 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 dai qualcuno se la ride però non sta andando a possibare dai ultimo paio di colpi ma oh Vado sbagliando a scendere Vediamo se la porta di sotto Che non si è aperta prima Vesta qua Questa chiave è qui Chiava arrugginita Perfetto Ed è qua Ok Un messaggio Un quarto d'ora Ok Il rasso incendiario Sono io Ancora non si può andare Bella Fatto cagare addosso Grazie a tutti non perchè sono rompipalle ma sono curioso di vedere se di qua c'è nascosto qualcosa un funghetto più avanti nemico forte niente di qua non c'è nascosto niente se il cavaliere come quello di poco fa non è tanto impossibile dai dovremmo lottare in questi spazi stretti perchè non ti permette di girarci intorno poi me lo sgancia non so perchè ogni volta che mi fai sto colpo critico lui ti sgancia il bersaglio ho dettito a raccogliere qui non ce n'è vedo neanche nessun modo per richiamare questo ascensore possibilmente si richiama da sopra dai saliamo tira la levata tira la levata tira la levata il meccanismo non si muove a tira la ho il gigante ma buco non vedo niente di qua andiamo un attimo di sopra eh calmati se ne di sotto che ti raccoglio l'oggetto è caduto nel buco eh quello non si raccoglie più qualcuno mi evoca in un altro mondo come cacciatore ah dov'è vediamo se è questo puntino che devo cercare sì è perso dai andiamo dai andiamo ma giriamo tutti intorno e basta se c'è di esplorare anche il pieno di sopra a me la penso di cominciare da quello di sotto dai almeno facciamo le cose con ordine sì dai no io di qua non ci salto oh un altro punto di grazia non ci salto non ci salto non ci salto Che simpatia Che c'è nell'aria Ah ok Non abbiamo riposato al punto di grazia Quindi Non mi ha ricaricato le ambolle Ok Ma facciamo una cosa Perfetto Riprendiamo Qui ho preso Tombolate Ma è scemo o cosa Troppo pesante Troppo pesante Ok Ok Allora Anni o più se roloni Non Va bene Scendiamo di là Scendiamo di là si è calmata brava c'era qualcosa però guarda stregone guarda stregone va bene va vai via vai devo arricarmi e crepa male dai forza o provato Grazie a tutti. 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 Vai, calmo. Ma che è qui? Grazie a tutti. 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 E smettila Ma non mi fai droppare mai niente tu Vabbè che non penso di poter utilizzare Degli armamenti così pesanti Stavolta andiamo di qua a sinistra Stavolta andiamo di qua Ah, nice, the pleasure's mine Roger's the name A sorcerer I'm looking for a little something Here when I'm not hotfooting it from the troops That is But enough about me What this place is bristling with tarnished hunters, you know They sacrifice Not exactly a place I'd stroll into without I see Here to challenge Godric and lay your hands upon me You can see it then I take it The girl Enjoy it while you can I'm tarnished But unlike you I've seen neither hide nor hair of this guidance still I won't forget how it felt when I first came here To the lands between I'm privy to a few magical battle arts Would you care to learn one As a fellow tarnished Once guided by Grace I'd love to help you out Allora In questo momento non posso fare nulla Però pensavo che c'era un punto di grazia qui Dai Che antipatia Eh vabbè Quindi devo ritornare da dove stiamo andando Avevo preso la direzione diciamo giusta Avevo preso la direzione diciamo giusta Avevo preso la direzione diciamo giusta M'enviva Vabbè 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 Sì, sono due. senti ma adesso? di amonazco eh no oh il cavolo eh ciao ciao i cavoli spiriti non li posso evocare non capisco il perchè non capisco non capisco non capisco non capisco niente non capisco non capisco non capisco e credo che sarà quando viene invaso ora e credo che sarà quando viene invaso no no a te voliziamo qua l'area è vai via Lì sotto c'è il tizio bestia, lì. Mentre non si apre da questo lato. No! No, non tu ti gravi anch'io. No! 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 Grazie. Ah, vai, vai. Senti, non di qua, momentaneamente. C'era di là che era uscito un fantasma e se la stava facendo di corsa come se volesse andare a recuperare le anime perdute. Senti, non di qua. 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 Senti. E siamo di nuovo qua. Va bene. Alla prossima live. Completiamo l'esplorazione di quella zona. Ciao, ciao. 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 Ciao.